Se non sei innamorata di un altro, voglio alludere al misterioso capitano che viene qui. Credi forse che possa curarmi di quel... Non arrabbiarti, dicono che ti faccio la torta. Ne odio anche la vista. Ma invece temevo... Beh, meglio così. Di dove è saltato fuori? Ecco, io lo conosco appena a dirti la verità. La mamma lo ha incontrato in casa del nonno. Ah. Ha raccontato una quantità di storie, non ricordo bene. Si è imbarcato da ragazzo, è stato in California all'epoca dell'oro, ha navigato in tutti gli oceani, ha vissuto in un'isola dei mari del sud. Così ha detto. Molto romantico. È il suo trucco, fare il romantico. Pietro, hai detto niente di me alla mamma? Che cosa doveva dirmi? Ha soltanto detto che non ti vedeva da secoli, mia cara. Vinia non è lei oggi, Pietro. Non ve la prendete. Ce l'ha con me, non con voi. Beh, allora sarà meglio che io me ne vada. Tornate domani, altrimenti verrà a cercarvi lei. Arrivederci, Vinia. Arrivederci, Pietro. Arrivederci, signora Mennon. Arrivederci. Excelente domani. Grazie. Grazie. Grazie.